Metta per se stessi. Nella meditazione che segue, venite guidati a pronunciare le frasi della pratica di metta per voi stessi. Assumete una posizione di meditazione in cui vi sentite a vostro agio e rilassatevi. Niente vi deve comprimere. Niente deve ostacolare il vostro respiro. Il vostro corpo diventa pesante, morbido e ampio. E il vostro respiro scorre calmo e profondo. Rilassatevi sempre di più e immaginate di essere illuminati dai raggi del sole. Sentite il calore del sole sulla pelle e sul volto. Con l'andare e venire naturale e profondo del respiro, si sciolgono tensioni e rigidità. Non c'è nulla da trattenere. Lasciate andare ogni tensione corporea. Ora la vostra attenzione si sposta nella zona del vostro corpo che chiamate il mio cuore. Forse sentite il vostro battito cardiaco e intuite lo spazio che circonda il cuore. Dirigete il respiro verso lo spazio del cuore e permettete al vostro cuore di aprirsi un po' di più a ogni espirazione. Immaginate che il vostro cuore sia inondato dal calore solare e nella luce del sole vedete spuntare un fiore meraviglioso. Che tipo di fiore è? Che colore ha? Osservate bene questo fiore nella sua naturale perfezione. Il vostro cuore viene dolcemente attraversato dai colori e dalle fragranze del fiore e si apre ancora di più. Dal profondo del cuore, dite ora mentalmente, con benevolenza verso voi stessi, POSSA IO ESSERE FELICE Ripetete questa frase un paio di volte. Pronunciatela con calma e calore. Fate una pausa nel mezzo in modo da poter cogliere il beneficio che vi deriva da questa attenzione interiore. possa io essere felice. Mettete ora per un attimo da parte questa frase e rivolgetevi alla seconda frase di Metta. POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO Ripetete la frase un paio di volte. POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO Ora ripetete tutti e due gli auspici di seguito. POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO POSSA IO VIVERE POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO Ora aggiungete la terza frase. POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO POSSA IO VIVERE SICURO E PROTETTO Ripetete tutte e tre le frasi per alcuni minuti. Possa io essere felice Possa io vivere sicuro e protetto Possa io vivere in buona salute Possa io vivere in buona salute Possa io vivere in buona salute Essa esprime il desiderio di vivere la vita in tranquillità, senza gravi preoccupazioni Possa io essere libero dalle preoccupazioni Possa io essere libero dalle preoccupazioni Ora pronunciate tutte e quattro le frasi insieme, sempre nello stesso ordine Possa io essere felice Possa io vivere sicuro e protetto Possa io vivere in buona salute Possa io essere libero dalle preoccupazioni Possa io essere libero dalle funzioni Tra noi non possa dire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.